Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura. Parliamo della sentenza Coingas che è arrivata questa mattina, sentenza di primo grado dell'atteso e seguitissimo caso Coingas. Il collegio giudicante era presieduto dal giudice Filippo Ruggero. Vediamo com'è andata nel servizio di Chiara Sadotti. Visti gli articoli 533 e 535, il quadro cedificio della penale dichiara che Olivetti e Rason, Pierettore, responsabile dei reati a lui ascritti. Tre anni per Pierettore e Olivetti e Rason, un anno per Roberto Bardelli e Luca Mendola ed infine tre mesi per Alessandro Ghinelli. E' questa la sentenza pronunciata questa mattina dalla giudice del Tribunale di Arezzo, Filippo Ruggero. Continua a fare il sindaco fino al 2025. Praticamente l'unico condannato insieme nel nostro filone, quindi va bene. Vediamo le motivazioni. La sentenza di primo grado sul caso Coingas è stata pronunciata poco prima delle 12. Il sindaco di Arezzo è stato condannato per favoreggiamento reale per il filone e molti servizi. E' stato invece assolto dall'accusa di abuso d'ufficio. Due assoluzioni su tre, la terza la impugneremo e otterremo l'assoluzione in appello. Assolto da tutti i capi di imputazione, peculato e abuso d'ufficio, anche Francesco Macri, ex presidente di Estra. Non c'erano effettivamente prove concrete a suo carico e quindi mi fa molto piacere. L'avvocato fiorentino Pierettore Olivetti Rason è stato invece condannato per peculato ed è stato anche intervetto dai pubblici uffici. E' una condanna che non tiene conto a nostro giudizio di quello che è stato il risultato del dibattimento, che ha mostrato in maniera assolutamente chiara l'apporto professionale dell'avvocato Pierettore Olivetti Rason alle ragioni del suo assistito e anche la congruità delle somme che ha ricevuto. Il commercialista aretino Marco Cocci è stato assolto dall'accusa di peculato. Sono stati tre anni e mezzo molto brutti, che non auguro nessuno e adesso mi riprenderò la mia vita professionale in maniera intensa come uso fare da sempre. Assolti anche Maracacioli, ex dipendente Coingas Stefano Pasquini, avvocato aretino Franco Scorteci, l'attuale presidente di Coingas Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa ed infine Alberto Merelli, attuale assessore del comune di Arezzo. È un tritasassi per chi non ci ha abituato, la coscienza era a posto, mi sembra che oggi la sentenza sia stata, per quanto riguarda il filone di Coingas, abbia fatto chiarezza su tante cose e speriamo che ora c'è la Corte dei Conti che dovrà dare un altro segnale forte. Certo che questa situazione alleggerisce il sistema legato a Coingas. Punto di vista strettamente processuale, comunque le parti civili hanno un margine per recuperare quei danni che hanno sostenuto fin dall'udienza preliminare aver subito, quindi comuni che non hanno ricevuto delle somme che dovevano essere patrimonio della società perché utilizzate in modo illegittimo, avranno questo spazio. Ancora a Coronaca chiusi tre centri estetici abusivi in Casentino, l'operazione della Guardia di Finanza. Vediamo. Estetiste tra le mura domestiche ma completamente sconosciute al fisco, a scoprire tre casi negli ultimi giorni la Guardia di Finanza di Arezzo. L'indagine era partita lo scorso dicembre dal monitoraggio di centri estetici pubblicizzati sui social network, a dare nell'occhio la moltitudine di follower e di posta pubblicati. Così sono stati svolti accertamenti sulle banche dati nella disponibilità delle fiamme gialle, dalle quali è emersa in modo chiaro l'operatività di tre imprese casentinesi in totale evasione di imposta e, per due di esse, in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative. Le ricerche hanno permesso di acquisire la documentazione extracontabile attraverso la quale sono stati riscontrati puntualmente gli appuntamenti che gli estetisti annotavano per i trattamenti da eseguire. Al termine dei controlli finanziari di Poppi hanno quantificato redditi non dichiarati per oltre 200 mila euro a fronte di numerose prestazioni senza l'emissione del documento fiscale. Sono scattate anche le sanzioni amministrative sino a 18 mila euro per due dei soggetti controllati per aver esercitato l'attività abusivamente, ossia in assenza dei requisiti professionali e delle autorizzazioni comunali e sanitarie. Un plauso da parte della Confartigianato Estetica per l'operazione della Guardia di Finanza casentinese che ha effettuato tre controlli su attività sconosciute al fisco, quantificando importanti redditi non dichiarati. Finalmente un primo risultato importante contro l'abusivismo, conferma Pierluigi Marzocchi, presidente di categoria Aretino, frutto anche del lavoro in sinergia tra la Guardia di Finanza e Confartigianato che rappresenta le imprese del settore e che stanno dalla parte della legalità e contro i rischi connessi agli abusi. La collaborazione tra la Guardia di Finanza e l'Associazione è un percorso avviato nel settembre del 2022 per rispondere alla rabbia di tante aziende che rischiano di chiudere a causa proprio di un fenomeno che dopo il Covid ha avuto una forte accelerazione. E ancora cronaca, ieri pomeriggio due ispettori della Questura di Arezzo, liberi dal servizio e in abiti civili stavano transitando in piazza Guido Monaco e hanno notato un uomo seduto sulle panchine insieme ad altre persone. I due poliziotti hanno riconosciuto immediatamente e senza alcun dubbio un pluri pregiudicato cinquantenne italiano sul quale pendeva da alcune settimane un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Arezzo. Dopo aver provveduto a mettere in sicurezza l'uomo, con l'ausilio di un equipaggio della squadra volante, lo hanno portato in questura per formalizzare l'arresto e successivamente è stato trasferito presso la casa circondariale di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è ancora un avvistamento di un lupo nei centri abitati proprio alle porte di Arezzo. Vediamo il servizio. Ad un mese esatto dalla prima riunione del comitato problema lupo tenutasi nella sala parrocchiale di Rigutino, ecco un altro avvistamento. Il video ci arriva da un telespettatore, siamo nella zona di Fontiano, Olmo, alle porte di Arezzo, zona da cui nel tempo sono arrivate altre segnalazioni, come questo video, qui siamo a Ristradelle. Una presenza evidentemente più massiccia rispetto al passato che sta creando allarme. Anche nel senese a Radicofani la situazione è fuori controllo, i lupi, raccontano gli elevatori della CIA, arrivano nel centro abitato anche di giorno, saremo costretti a chiudere se non si trovano soluzioni. Nella zona si segnalano assalti continui a greggi di pecore e allevamenti di bovini. Nell'aretino l'ultimo avvistamento era stato lungo la tangenziale, l'animale era stato avvistato in aree densamente popolate, così come questa ultima segnalazione a Fontiano, qui il lupo con in bocca la sua preda si aggira in una zona residenziale. E saranno almeno 47 per un totale di 700 mila euro di finanziamento, ma forse potranno diventare 54 i progetti ammessi e finanziati in provincia di Arezzo grazie al bando attuativo della cosiddetta legge per i custodi della montagna. Sono felice, commenta Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, che la legge di cui sono stato proponente sia stata attuata con grande tempestività e abbia rappresentato da subito uno strumento concreto di sostegno alla creazione delle imprese nelle zone montane. E torniamo ancora a parlare di politica perché slittano le amministrative nel comune di Laterina al 2024. Vediamo il perché nel servizio di Chiara Sadotti. Il comune di Laterina non andrà alle elezioni nel 2023, ma si voterà nel 2024. Alla data stabilita per il turno elettorale, ossia il 14 e il 15 maggio, non sono infatti passati 5 anni di mandato per la sindaca Simona Neri. Dunque in provincia di Arezzo saranno solo due i comuni dove i cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare sindaco e consiglio comunale Capolona e Caprese Michelangelo. Tutto nasce dal posticipo del voto di 5 anni fa nel municipio nato dalla fusione di Laterina e Pergine per la morte di un candidato sindaco Giovanni Lari a due giorni dall'apertura dei seggi. Si andò dunque al voto non in primavera ma il 29 luglio. Questo è per legge il motivo per ritenere non scaduto il consiglio comunale, quindi la proroga di un anno. Simona Neri vinse con una lista che superò quella di centrodestra con il candidato Stefano Bellezza e quella di sinistra guidata invece da Rossella Lattanzi resterà sindaca sino al 2024. Lo scrittore politico Tito Barbini commenta la vittoria alla segreteria nazionale del PD della Shlein. Finalmente una persona che dice cose di sinistra. Ha raccolto l'intervista per noi David Faltoni, direttore di Allo Web, le cui trasmissioni andranno in onda anche nel nostro palinzesto. Ascoltiamolo. Tanta gente come te questa notte quando è stata proclamata vincitrice che vengono dalla sinistra si sono emozionati, ma veramente emozionati. Ma Ellis Line è nata politicamente quando non esisteva già più il Partito Comunista e nemmeno la Comunità Cristiana. Quindi com'è possibile che in lei ci sia tutta questa... Perché finalmente sentiamo, ripeto, una giovane donna che si candida alla segreteria del Partito Democratico, che posso dire, dice cose di sinistra, ma le dice in modo chiaro, dice cose di sinistra rispetto ai grandi problemi del nostro Paese, sul lavoro, sulla precarietà, sulle disuguaglianze, sulle grandi questioni dell'ambiente, dell'ecologia, ma non enucleando soltanto dei temi, ma indicando la strada per poter affrontare questi problemi. E soprattutto finalmente sceglie di dare un contributo a mettere insieme un'opposizione e comunque ricreare un campo largo della sinistra che invece Letta, o comunque quelli che lo hanno preceduto, aveva in qualche modo messo in discussione, perché si è determinata una situazione assolutamente... Come fa a vincere Bonaccini quando alcuni giorni prima delle elezioni, delle primarie, dice non soltanto che è brava, lo dice anche Letta, che è brava la Meloni, ma dice anche basta con questo ritornello attorno alla questione del fascismo, insomma bisogna superare questa cosa, occorre guardare avanti, invece questa donna ha dato impressione proprio a tutti noi che... E soprattutto ci sono stati anche fatti di Firenze... Di Firenze, ma voglio dire poi c'è tutto quello che è successo anche in questi ultimi mesi di governo Meloni, insomma questo nascondere e cercare in qualche modo di legittimare un'azione di governo, ma che alcuni ministri hanno in qualche modo di portato poi a una nostalgia e a un legame fortissimo con gli aspetti appunto di questo partito. L'antifascismo è tornato ad essere un problema fondamentale, non solo per i fatti di Firenze, ma come l'identità di un paese che è nato dalla Resistenza, che ha fondato la sua Costituzione sull'antifascismo, io non ho sentito ancora la Meloni, pur così prudente rispetto al fascismo, dichiarare apertamente che l'Italia è una Repubblica antifascista. E adesso lasciamo la politica, occupiamoci invece di solidarietà, donazione oggi grazie al gruppo Facebook 6 di Arezzo Se alla Croce Rossa per aiutare le famiglie in difficoltà. Il denaro raccolto è stato raccolto appunto grazie al mercatino delle pulci. Vediamo. Direi che il risultato finale di questa prima iniziativa è stato ottimale, perché comunque sia abbiamo raccolto 1180 euro e oggi finalmente vediamo anche il risultato di questa raccolta, fondi, perché siamo andati a prendere i viveri che abbiamo comprato e che oggi arrivano fisicamente in sede di Croce Rossa. L'idea era nata sui social network, nello specifico sul gruppo Facebook 6 di Arezzo Se, il più numeroso della provincia che oggi conta oltre 35.000 membri. Pomeriggio ero qui in sede per altre questioni mie di servizio e parlando con la responsabile dei vivere e della gestione delle famiglie indigenti mi diceva che il numero delle famiglie è triplicato dopo il covid e quindi parlando un po' così ho detto ma perché non facciamo qualcosa che possa aiutare Croce Rossa ad aiutare queste famiglie e quindi ne ho parlato con gli altri membri del gruppo 6 di Arezzo Se e sono venute fuori un po' di idee e abbiamo creato questa raccolta fondi. L'idea si è così concretizzata in un banco al mercatino delle pulci con quanto donato dagli stessi membri. Piccolo contributo anche come esempio che con poco perché alla fine chi ha dato cose che comunque non sono state un peso, chi ha comprato alla fine ha speso dai 2 ai 5 euro, quindi è stata una cosa che alla fine è venuta fuori da sé anche gratuitamente insomma senza dover impegnare finanze. Quanto raccolto è stato destinato alla Croce Rossa di Arezzo, con il ricavato sono stati infatti comprati generi alimentari che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. Aumenta sempre di più, non accenna a diminuire, siamo arrivati ad oltre 160 nuclei familiari, in parecchi di questi nuclei ci sono minori e un aiuto di questo genere ci permette di continuare a dare risposte a chi in questo momento sta attraversando un periodo di difficoltà. È la dimostrazione chiara che gli aretini hanno un grande cuore e soprattutto che i gruppi social possono essere utilizzati anche per degli scopi importanti come questo. E adesso andiamo a Castiglion Fiorentino, una scuola di soccorso per gli studenti toscani di ogni ordine e grado, dalle elementari alle superiori, che culmina con un corso avanzato di formazione sull'uso del defibrillatore riservato agli studenti. È quanto prevede l'intesa tra la Federazione Regionale delle Misericordie e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana che ha visto proprio questa mattina il secondo incontro presso la Scuola dell'Infanzia di Broglio a Castiglion Fiorentino. Il progetto della Confraternita della Misericordia di Castiglion Fiorentino prevede una serie di appuntamenti proprio presso le scuole dell'Infanzia del territorio per formare la cosiddetta cittadinanza attiva fin da piccolissimi, proprio per sapere come comportarsi di fronte ad un infortunio, ad un incidente oppure ad un malore e per ridurre le conseguenze, in certi casi, anche la morte, così come per salvare una vita con un defibrillatore. Il progetto si chiama Asso a Scuola di Soccorso. E ora vi raccontiamo la storia di Monkey, un Jack Russell con un problema cardiaco per il quale è stato attivato una raccolta fondi. Vediamo. Lui è Monkey, un cucciolo di Jack Russell di soli tre mesi ospitato dallo scudo di Pan. Ovviamente noi siamo solo gattili, però a volte ci imbattiamo in situazioni anche per i cani difficili. Purtroppo il cagnolino ha una malformazione cardiaca. Da qui la raccolta fondi per sostenere le spese dell'operazione. L'intervento sarà infatti molto costoso. Dopodiché si cercherà casa per lui perché è giusto che abbia una famiglia che gli voglia vena. E niente, facciamo una raccolta fondi perché l'operazione costa parecchio. Ancora non ci abbiamo tutto il resoconto perché siamo alle prime ecografie del cuore da fare. Insomma, poi andremo avanti. Cercheremo di fare la prima possibile e comunque eviteremo i formati di qualsiasi movimento. Chiunque vorrà dare una zampa a Monkey potrà farlo con una donazione all'associazione Lo Scudo di Pan. Una giornata dedicata ai bambini ma dalla quale anche gli adulti potranno trarre utili indicazioni sui corretti stili di vita e salute. A organizzarla è il Calcit ad Arezzo Fiere e Congressi. L'appuntamento è fissato per domenica 5 marzo a partire dalle 10. Molti temi che verranno affrontati grazie ai laboratori didattici che compongono un ricco cartellone che prenderà il via con una cerimonia di inaugurazione che vedrà, oltre ai saluti delle autorità, in rappresentanza di Calcit, Comune di Arezzo, ASL, Toscana Sud-Est e Ordine degli Infermieri, una collezione offerta ai presenti. E adesso passiamo allo sport. Andiamo a parlare di nuoto perché la Chimera Nuoto è la terza miglior società del sedicesimo trofeo città di Bastia. L'evento ha riunito circa 650 atleti che a Bastia Umbra si sono sfidati nelle varie specialità e nelle varie categorie del nuoto con la società Retina che è riuscita a lasciare il segno con un totale di 40 medaglie. Questo palmarès, unito ai miglioramenti cronometrici, permette di ben sperare in vista dei campionati regionali giovanili invernali che prenderanno il via da venerdì 3 marzo e che andranno a configurare il principale appuntamento della prima fase di stagione. E la società sportiva Arezzo, in occasione della partita casalinga contro il Città di Castello, in programma domenica 5 marzo alle 14.30, invita i propri sostenitori ad acquistare in prevendita il tagliando di ingresso allo stadio comunale al fine di evitare code al botteghino e ai cancelli di ingresso, senza contare che l'acquisto del tagliando di prevendita anche attraverso il sito online Ticket One comporta un importo inferiore rispetto al biglietto acquistato presso la biglietteria. E in chiusura parliamo di una serata dedicata al Fogliano Calcio da parte del Panathlon. All'hotel Minerva di Arezzo si è tenuto il convivio numero 556 del Panathlon Club di Arezzo. Alla società Nuova Fogliano è stato consegnato un riconoscimento per il fair play, per l'atteggiamento dimostrato durante l'incontro del campionato di eccellenza Fogliano-Rondinella allontanando dallo stadio uno spettatore che inveiva contro la squadra ospite offendendo anche i sostenitori ospiti e sottolineando nel comunicato di scuse per l'accaduto quanto queste forme siano lontane dal modo di concepire lo sport della società. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Arrivederci.